Oggi abbiamo finito il girone della Champions League, abbiamo fatto una partita dove ci siamo meritato il primo posto nel girone contro una squadra veramente forte che è il campione d'Europa dell'anno scorso. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla, però abbiamo veramente dato l'anima, abbiamo giocato un bel girone, siamo primi nel girone nostro e adesso aspettiamo di giocare la prossima partita perché oggi abbiamo dato l'anima, non era la miglior partita che abbiamo giocata, però siamo stati lì e abbiamo spinto sempre.